Oh, l'amico slam di questa puntata è... Cosa è successo? Ragazzi, l'amico slam di questa puntata non poteva scendere dallo scivolo perché è... Jeppi and Jeppi! Eccoci, Francia! Moo Moo! È voluto da quando ti ho visto si fa presto a dire come al tuo posto ma una donna solo può sentire quando è il momento, il momento di impazzire. Io ti ho vista e mi sembro di morire per averti ero già pronto a tradire. Ora ti ho, amo il prezzo più caro, male fatto ad un amico sincero. Non c'è più calma nei pensieri miei. Io invece no, invece io riparei. Lo so, lo sento e mi trascini giù in un mondo blu. Lui, come ti amo. Lui, mi amo e mi odio. Lui, perché della tua vita ho fatto la mia vita. Qui nel tuo corpo c'è la pace mia. Qui nel tuo corpo c'è la pace mia. Nella tua pace c'è la mia cozzia. Lui, ma sempre, sempre mi trascini tu in un mondo blu. Lui, come ti amo. Lui, ti amo e mi odio. Lui, perché con te ogni volta. Lui, sarà la prima volta. Ti ricordi di primi momenti. I tuoi sguardi sempre più incoscienti. Con l'imprudenza di chi sta per rubare. Con la violenza che accompagna l'amore. Lui, come ti amo. Lui, come ti amo. Lui, ti amo e mi odio. Lui, perché della tua vita. Lui, ho fatto la mia vita. Non c'è più calma nei pensieri miei. Io invece no. Invece io lo riparei. Lo so, lo sento e mi trascini tu in un mondo blu. Lui, come ti amo. Lui, come ti amo. Lui, ti amo e mi odio. Lui, perché con te ogni volta. Lui, come ti amo e mi odio. Lui, come ti amo e mi odio. Ciao, ciao. Senti, tutti quanti noi sappiamo che tu sei Gepi & Gepi. Ma vuoi spiegare di voce ai nostri amici? Chi è questa favolosa amica che sta con te? Questa favolosa amica è una bravissima cantante che io sto producendo. Abbiamo fatto questo disco insieme. Forse ne faremo un altro. E poi naturalmente prenderà il volo e diventerà bravissima e fantastica come tutte le altre. Gliela auguriamo. Allora auguriamo. Come si chiama? Melissa. Melissa. Si chiama Melissa. Grazie. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Ragazzi, c'è la sorpresa per Gepi & Gepi & Melissa. Vieni, professor Giamprove. La conoscete già il nostro professore? Professor Giamprove. Eccola qua. Spero che sia di loro tradimento. Ma questo con la barba sono io e Melissa. No, no. Lui con la barba e lei. Sì. Melissa. Ok. Grazie. Grazie. Un bacio, un bacio. Grazie, grazie. Niente, io vado avanti ragazzi. Se no quando finiamo. Si, vai avanti tu, vai avanti tu. Andiamo avanti.